Nasce per gioco in ideato dal sottoscritto e altri due amici. Attesa la grande partecipazione che si è avuta negli ultimi due anni con questo nuovo sport, ho deciso di fare un torneo a squadre, suddividendo la città in rioni, quindi ogni squadra prende il nome di un rione. Ovviamente gli atleti dovrebbero o quantomeno appartengono al rione di ogni squadra. Il secondo anno è un torneo itinerante, il primo anno è stato fatto a Pantano, quest'anno viene fatto in questa splendida struttura, il motivo è sicuramente per pubblicizzare questo impianto, infatti pubblicamente ringrazio il titolare che ci dà la possibilità di organizzarlo qui e quindi il torneo ha lo scopo proprio di pubblicizzare questo nuovo impianto di padel. Oltretutto è una struttura che vede non solo i campi di padel ma anche altre discipline sportive come il ping pong con i piedi, c'è una club house, quindi sarà anche un motivo di incontro, di inclusione e di socializzazione. Ritornando al torneo, è appunto un torneo itinerante che quest'anno viene svolto qui, vede la partecipazione di 14-15 squadre per un totale di 150-160 atleti, quindi diciamo numeri importanti per un torneo che ha soltanto due anni. L'augurio, lo scopo è quello di farlo crescere ancora di più, allargando un po' quelli che sono i confini di Benevento e provincia, anche se già in questa edizione abbiamo una squadra di ponte, una di San Nicola e un'altra appunto quella della struttura del MUD che fa capo a San D'Angelo a Cubolo. Sì, finalmente dopo tanti sacrifici da parte mia e dei due soci Valerio Tedesco e Carlotta Siciliano siamo riusciti a dare vita a quello che era il nostro sogno, il nostro obiettivo, creare una vera e propria cittadella sportiva da mettere a disposizione della provincia di Benevento e non solo ci auguriamo. Una struttura che è composta da campi da paddle di ultima generazione, da una grandissima clubhouse di circa 1000 metri quadri, di attrezzatura sportiva a corredo di questo circolo quali campo di take ball, ping pong, carambola e naturalmente di attività ludiche che possono essere messe a disposizione della clientela più grande e dei più piccoli anche. Infatti abbiamo previsto anche un'area dedicata ai bambini più piccolini di svago. Quindi siamo fieri di quello che abbiamo creato e speriamo che la cittadina ci dia riscontri positivi. Sì, siamo contenti quest'anno di poter ospitare questa importantissima manifestazione amatoriale sfruttando quella che è anche l'onda dell'entusiasmo del locale trenante, ossia del MUD. Praticamente durante questo torneo saranno messe a disposizione non solo le attrezzature sportive ma anche attrezzature legate al food. Quindi si penserà a giocare, a divertirsi ma anche a trascorrere in compagnia magari ascoltando della buona musica e insieme delle serate gioiose diciamo. Grazie. Grazie a tutti.